Capitano, parto da un dato statistico, la statistica importante non è tutto ma qualcosa si dice sulla tua presenza in campo, 9 rimbalzi, aggiungo anche i 16 punti e poi la presenza mentale, la leadership che sai dare anche nei momenti difficili, obiettivamente oggi ce ne sono stati veramente pochi perché siete partiti carichi per vincere la partita, per anche la differenza canestri dell'andata e per continuare il vostro percorso. Sì, innanzitutto è stata una partita ben interpretata da parte nostra perché sapevamo delle loro qualità, loro venivano qua a giocarsela per il secondo posto ma anche noi vogliamo continuare questo trend positivo soprattutto in casa, onestamente siamo partiti subito belli forti, carichi e non siamo mai riusciti, noi abbiamo quasi mai permesso di avere più o meno la speranza di poter rientrare e mettere la testa avanti. Abbiamo fatto una bella partita di atteggiamento da un punto di vista fisico, onestamente sono molto contento per i miei compagni perché anche la settimana scorsa abbiamo fatto una bella partita a Piombino, Piombino è stato molto bravo, hanno giocato veramente molto bene in casa e hanno vinto loro però anche noi abbiamo fatto una grande partita. Questa squadra sta dimostrando di volersene giocare tutte perché ci tiene, perché è un gruppo che lavora ogni giorno più di tutti gli altri, penso io, poi non mi voglio sbilanciare troppo, è un gruppo che lavora tanto, è un gruppo che crede nei propri compagni l'un l'altro, lavoriamo e quindi quello che stiamo facendo è qualcosa di molto importante. Per il futuro, fra due settimane c'è la Coppa Italia, qualcosa di nuovo per molti di questi ragazzi, un'esperienza diversa anche per misurarsi con delle forze di altri gironi a voi è toccata Sansevero che in questo momento sta facendo un percorso pressoché perfetto quali sono le tue impressioni, le tue emozioni diciamo da qui a due settimane? Beh sì, intanto è un grande traguardo per questa squadra, per questa società, per gli obiettivi che ci siamo previstati a inizio stagione, partecipare in tre giorni in cui si sfidano le migliori otto del campionato di Serie B è un gran privilegio e onestamente ce lo siamo anche meritati per quello che abbiamo fatto vedere fino ad oggi e poi devo dire, ricollegandomi a quello che ho detto prima, questa squadra vuole giocare questo tipo di partite, ha questa ambizione di voler giocare questo tipo di partite, le vuole giocare e ce la mette tutta, poi si può essere più precisi nel tiro, si può essere un po' più attenti, meno in difesa, però a noi piacciono questo tipo di partite, l'abbiamo dimostrato la settimana scorsa, oggi e vogliamo prepararci al meglio fin dalla settimana prossima per affrontare anche la Coppa Italia.